Professor Negri, forse non è infondata l'idea che le basi teoriche e organizzative del terrorismo siano state poste in due convegni di potere operaio, a Roma nel 71 e soprattutto a Rosolina in Veneto nel 73. Dalla lettura dei testi di quei due convegni si ricava la sensazione di trovarci di fronte a veri e propri manifesti rivoluzionali. Aveva senso a suo avviso proporre già in quegli anni una scelta che praticamente era di lotta armata. Ma vede, il problema non era quello della lotta armata, Rosolina, non fu il problema della lotta armata, ma fu il problema di quello che era l'organizzazione dell'autonomia, di un contropotere di massa. È molto difficile spiegare questa grossa differenza perché tutto quello che è avvenuto dopo ha appiattito completamente le posizioni dell'autonomia sulle posizioni delle Brigate Rosse e dei gruppi terroristici in quanto tali. In realtà fin da allora si si trattava invece di una posizione estremamente separata, divisa, di una posizione che l'autonomia sviluppava contro la lotta armata così come veniva definendosi da parte delle Brigate Rosse. Molti, a cominciare da Angelo Ventura, sostengono che lei ha formulato gli assunti teorici di potere operaio prima e dell'autonomia operaia poi. Che cosa può dirci? Ma sai, per quanto riguarda potere operaio, potere operaio viene da una tradizione alla quale io ho partecipato, però viene dai quaderni rossi. Potere operaio ha degli ascendenti che sono degli ascendenti interamente impiantati nella storia del movimento operaio italiano. E' disposto a riconoscere che lei ha quantomeno contribuito a imprimere una sorta di legittimazione scientifica e culturale a un filone politico militare ancora incerto o no? Questa paternità mia non la posso riconoscere. Ci sono intellettuali importanti all'interno del movimento operaio in Italia, i quali hanno altrettanta importanza nell'ambito di questa costruzione dell'autonomia, quanta ne ho io? E' una responsabilità collettiva questo tentativo di uscire a sinistra del movimento operaio, quello che noi abbiamo fatto, non quello che io ho fatto. Mi consente di procedere per viaggi, nel numero 35 del 1970 di potere operaio, leggiamo, si pone ormai la questione discriminante e decisiva della violenza rivoluzionaria. Ora, lei sa bene che quanti collaboravano a potere operaio si facevano un punto d'onore, per così dire, di assumersi in solido la responsabilità degli articoli in esso pubblicati. Dunque, anche lei era per la violenza rivoluzionaria in quel momento e in quel contesto o no? tutta la stampa del periodo, dell'estrema sinistra, dal manifesto a lotta continua, dai giornali di avanguardia operai a quelli del movimento studentesco, che in quegli anni si esprimevano in questi termini. Questo non significa assolutamente che la rivendicazione di un certo fondamentale leninismo del movimento fosse di per sé produttrice di effetti militari e di effetti, a limite, omicidi, come abbiamo riconosciuto, come abbiamo visto poi. Non riesco a capire come si possa innestare il terrorismo successivo a questo tipo di dichiarazioni. Alla conferenza organizzativa di potere operaio del 71, infatti, venne deciso il partito armato è immediatamente all'ordine del giorno. Sì, ma devo dire che questa, come l'ho già riconosciuto, eravamo nel pieno dell'estremismo e della follia. Ci sono dichiarazioni analoghe nei congressi di lotta continua dello stesso anno. Ci sono dichiarazioni in tutte le organizzazioni marxiste leniniste. Ma posso evitare? Esiste un documento dell'Ufficio Internazionale di Potere Operario del 73 che afferma che l'organizzazione proletaria ha il preciso compito di apprestare tutti gli strumenti della violenza proletaria che la classe, che la lotta, anzi spontanea, non è in grado di produrre, dalla lotta armata al terrorismo di massa. Ma su questo sono perfettamente, quello che vorrei farle capire è questo, è esistito un processo, un processo dentro il quale vivevano istanze di lotta armata, ma è vissuto un processo, questo processo è vissuto dentro un terreno di costruzione di luoghi di discussione, di costruzioni di iniziative collettive di massa che non hanno mai permesso e questa era la cosa estremamente importante per chi vivesse quel tipo di esperienza, mai permesso di esprimersi in quanto tali, in quanto organizzazione militare pura, quanto organizzazione militare che comandava la politica. Secondo Barbone, Morandini, Pasini, Gatti, la sua organizzazione era in grado di mettere a disposizione del servizio d'ordine durante i cortei armi da fuoco e bottiglie incendiali, è vero? Mai l'organizzazione della quale io feci parte promosse dei momenti militari di piazza in termini espliciti. Fornire armi da fuoco e bottiglie incendiarie, vorrà convenire, significa porre almeno le premesse, voglio dire, per un qualche moto cruento di piazza. Ma vedi, il problema appunto è che non è vero, che l'organizzazione, ma chi? La segreteria soggettiva, la redazione di Rosso? La segreteria soggettiva non esiste, la redazione di Rosso era fatta da dei giornalisti, poi c'erano i gruppi che venivano da tutti i quartieri di milanesi che si ritrovavano in piazza e si comportavano qualche volta attraverso un coordinamento tra loro, ma non attraverso il comando di un'organizzazione centrale. Era questa la forza del movimento, ma come può pretendere che un professore universitario nella sua facoltà, che oltretutto era anche molto poco in Italia perché insegnava a Parigi, potesse inventarsi una macchina di questo genere, migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone in piazza, ma come si può immaginare una cosa di questo genere e in più di distribuire bottiglie Molotov e armi? Il professore Neagle fa molto più domande di quante ne faccia io. Forse, io le sto facendo a me. Al processo detto del 7 aprile lei sostiene di aver avuto 4 incontri con Renato Curcio, il primo nella primavera del 73, l'ultimo nel luglio del 74. Quali fine avevano quegli incontri? Deve tenere presente che la cosa partì, questa serie di incontri partirono dopo l'occupazione della Fiat del 73 da parte degli operai, dove operai che si riferivano più o meno a Rosso e operai delle Brigate Rosse si erano trovati ad agire insieme nell'occupazione della fabbrica e le posizioni che erano uscite allora erano delle posizioni molto diverse. Lì si definì in quel momento quella che Curcio chiamava la domanda politica di assalto allo Stato. Ecco, quando ebbe luogo il quarto e secondo lei ultimo incontro con Curcio e forse anche con Franceschini, le Brigate Rosse avevano già rapito il giudice Mario Sossi e ucciso a Padova i due militanti del Movimento Sociale Italiano. Lei disse che era contrario alla rivendicazione di questo duplice omicidio perché avrebbe compromesso una frazione del Movimento. Era soltanto un problema di rivendicazione o per lei a quel punto le Brigate Rosse facevano ancora parte del Movimento? Ma guardi, il problema era di decidere se l'omicidio politico doveva diventare una cosa normale nel Movimento o no. Se ci si dichiarava contro l'omicidio politico o se lo si rivendicava. Io ero assolutamente contrario all'omicidio politico. E quando i compagni delle Brigate Rosse, perché erano compagni. È molto astratto dire, lei ritiene che fossero ancora nel Movimento o no. C'erano. Ed erano talmente forti, anche se erano pochissimi allora, perché attraverso quelle azioni interpretavano delle tensioni che erano vive nel Movimento. E a quel punto lì la cosa assolutamente fondamentale era lottare contro il fatto che queste persone assumessero l'omicidio politico come arma. Perché da lì poteva partire. Capisce cosa significava quando questi rivendicavano all'organizzazione l'uccisione di questi fascisti? Era tragico. Lì si apriva, si apriva veramente una china che non si sapeva più dove si sarebbe arrestata. Qualcuno ha detto che tra le Brigate Rosse e l'autonomia operaia non esisteva alcuna differenza. Altri hanno affermato che la diversità consisteva nel fatto che le Brigate Rosse sparavano alto e con un elevato potenziale di fuoco, mentre l'autonomia privilegiava il terrorismo minuto e sparso. E' questa o soltanto questa la differenza tra Brigate Rosse e l'autonomia operaia. La differenza fondamentale tra l'autonomia e Brigate Rosse è che le Brigate Rosse erano un'organizzazione terroristica, nel senso tradizionale del terrorismo, mentre invece l'autonomia non fu mai tale. L'autonomia fu un largo movimento di associazione politica, anche violenta, ma che non ha nulla a che fare con il terrorismo, neppure col terrorismo della tradizione. Quindi è su questo che passava la differenza fondamentale, che era una differenza di organizzazione, di strategia, di forma di lotta, di identificazione di soggetti sociali, eccetera, eccetera, di ideologia. E' una differenza come tra il giorno e la notte e tutte le omologazioni che sono state fatte di Brigate Rosse e autonomia, sono state solamente dannose e confusionarie e hanno impedito che quello che era un potenziale di lotta per la democrazia, per la libertà, per la trasformazione comunista, potesse esprimersi. Credo un enorme svantaggio per la società italiana che si è trovata prigioniera del compromesso storico prima e poi prigioniera di tutte le forme di blocco, pietrificata rispetto a quella che è stata l'esclusione, l'eliminazione di una possibilità dell'alternativa. Professor Negri, come intellettuale è sicuro che sia stata sempre ben spesa la ragione? No. Io sono estremamente impietoso con me stesso. Posso difendere ciascun momento della mia attività, ma quando devo guardare la mia vita dico no, non funzionava. O comunque bisogna andare avanti. Io posso difendere ciascuna delle mie decisioni, ma sarei assolutamente pazzo se dicessi, ma quando mai la vita di una persona è sufficiente a portare avanti quello che si pensi, i desideri che si hanno e soprattutto a evitare gli errori che si fanno. Grazie. Grazie.